Ed è sempre uno spettacolo magnifico, quindi ci sono da bene, signori rieccoci, siamo mancati un po' di tempo ma molto spesso quando c'è assenza fomenta ancora di più la passione, per noi passione, divertimento e gioia vuol dire è tutto tramutabile con una parola, ovvero Ginkane. Ci sono varie situazioni che si stanno creando, vi avevamo promesso qualche mese fa ormai che non ci saremmo fermati e così è infatti. Ci sono varie novità in concomitanza con il nostro presidente Rocco Argentiero, si va sempre avanti, si progredisce, a noi è sempre piaciuto aumentare gli spettatori, aumentare lo spettacolo, aumentare l'emozione che da ormai 20 anni le Ginkane dona e non ci fermeremo, anzi stiamo ricordando. Ricominciando. Ricordate anche di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Youtube, Campionato Ginkane Automobici, diffidiamo delle imitazioni. Per qualsiasi info potete sempre scriverci in privato, le risposte saranno naturalmente molto immediate per contrattarci in questo momento.